Buongiorno, sono Francesco Calza, responsabile per IREN del reparto di ricerca perite. Abbiamo volentieri partecipato a questo evento di formazione perché pensiamo che questa sia la chiave più importante. La formazione proprio ci permette di divulgare i temi della ricerca perite e delle migliori tecniche applicabili. Abbiamo portato in questa giornata la nostra piccola esperienza fatta di statualizzazione, gestione delle pressioni e siamo contenti di dare il nostro piccolo contributo a questo evento.